Grazie di essere qui. Vedo con piacere che le facce nuove si aggiungono a facce che avevo già visto in altre occasioni. Vorrei vedere sempre più facce nuove. Ho scelto di leggere dei brani dell'appello che il congetto Marchesi, rettore dell'Università di Pavia, di Padova, indirizzò ai suoi allievi nel dicembre del 1943. Studenti dell'Università di Padova, sono rimasto a capo della vostra università finché speravo di mantenerla immune dall'offesa fascista e dalla minaccia germanica, fino a che speravo di difendervi da servitù politiche militari e di proteggere con la mia fede pubblicamente professata la vostra fede costretta al silenzio e al segreto. Tale proposito mi ha fatto resistere contro il malessere che sempre più mi invadeva nel restare a un posto che, ai lontani, agli estranei, poteva apparire di pacifica convivenza, mentre era un posto di ininterrotto combattimento. Oggi il dovere mi chiama altrove. Oggi non è più possibile sperare che l'Università resti asilo indisturbato di libere coscienze operose, mentre lo straniero prema le porte dei nostri istituti e l'ordine di un governo che, per la defezione di un vecchio complice, ardisce chiamarsi repubblicano, vorrebbe convertire la gioventù universitaria in una milizia di mercenari e di sgherri, massacratori, studenti. Non posso lasciare l'ufficio del rettore dell'Università di Padova senza rivolgervi un ultimo appello. Una generazione di uomini ha distrutto la vostra giovinezza e la vostra patria. Traditi dalla frode, dalla violenza, dall'ignalia, dalla servilità criminosa, voi, insieme con la gioventù operaia e condadina, dovete rifare la storia d'Italia e costruire il popolo italiano. Non frugate nelle memorie o nei nascondigli del passato i soli responsabili di episodi delittuosi. Dietro ai sicari c'è tutta una moltitudine che quei delitti ha voluto e ha coperto con il silenzio, con la codarda rassegnazione. C'è tutta la classe dirigente italiana, sospinta dalla inettitudine e dalla colpa verso la sua totale rovina. Studenti, vi allontano da voi con la speranza di ritornare a voi, maestro e compagno, dopo la fraternità di una lotta assieme combattuta. Per la fede che vi illumina, per lo sdegno che vi accende, non lasciate che l'oppressore disponga della vostra vita. Fate risorgere i vostri battaglioni, liberate l'Italia dalla schiavitù, dall'ignominia. Concetto Marchesi, primo dicembre, 45. Vorrei dirvi che ho scelto questo appello di Marchesi perché mutatis mutandis, lo sporco e l'uridume, il putridume dell'attacco continuo alla libertà si ripropone sotto altre forme, anche oggi. Ancora una cosa, ancora una cosa. Attenzione, occhi aperti a non cadere tutti noi qui dentro in un tranello. Noi qui oggi stiamo difendendo la libertà di informazione. Ma rischiamo di non avere informazione, non nel senso che ci sarà proibito pubblicarla, ma nel senso che non ce ne saranno. Perché questa legge ha due scopi. Uno, mettere il bavaio all'informazione, ma a mio avviso lo scopo principale di questa legge è di mettere i magistrati, la polizia, gli investigatori, nella impossibilità di fare le intercettazioni. Questa legge, su questa legge il governo, vedrete, verrà incontro a noi che chiediamo una maggiore libertà di informazione, ma sarà irremovibile nell'altra parte della legge perché è quella che può garantire ai mafiosi, ai corrotti della grittà di continuare a fregarci nella più assoluto silenzio, nella più assoluta obertà di tutti. Grazie. Buona fortuna.